La forza di Siena sia quella di aver vinto tanti titoli negli anni, di aver strutturato un sistema attraverso il quale c'è un'autostima che grazie alle vittorie poi si è sviluppata a livelli che stiamo vedendo e le qualità non potevano sciogliersi, questo tipo di qualità non si poteva sciogliersi attraverso una partita, di questo ero certo, che poi ci fosse e io per primo lo dico, la certezza o l'ipotesi che la serie playoff andasse come è andata è difficile poterlo prevedere allora ed è molto più difficile ammetterlo oggi, ma al risultato acquisito tutti potrebbero dire, io pensavo che, però sicuramente che ci fosse una reazione era scritto, è scritto nelle tracce del DNA di Siena che ci fosse una reazione, assolutamente. Secondo me sì, se loro giochano come giocato contro l'Olympiakos, per me loro sono una squadra fortissimo e questo è il basket, tutto il partito comincia a 0-0.